Eccoli, eccoli! La manifestazione antifascista, antirazzista il 10 febbraio 2018 non è bastata! Non è bastata! Non è bastata riparire! Non è bastata! Non è bastata riparire! A casa andate! Noi siamo a casa! Questa è casa nostra! Questa è casa nostra! E vogliamo dire che dopo i fatti di febbraio 2018 e di gennaio 2018, il numero di euro sono state le passerelle che abbiamo visto nella nostra città e noi non lo accettiamo e quello di questa sera è l'ennesimo esempio di queste passerelle. Una passerella che usa la droga, la droga come scusante per promuovere politiche repressioni sulla pelle dei migranti, sulla pelle degli emarginati. La promuovere è l'estruzione sociale! E noi siamo in una parte giusta, siamo qua! Anziano, ambarciatori! E adesso parla un segato! Quanti gli esigilenti che stanno a stricare! Quanti gli esigilenti! Quanti gli esigilenti che stanno a stricare!